Siamo qui con i Dear Jack, ciao ragazzi! Buonasera a tutti! Allora, l'8 giugno esce il vostro nuovo disco, un disco che arriva dopo due anni in silenzio. Allora, raccontateci un po' com'è nato questo nuovo progetto, che ho visto insomma che contiene le vostre grandi hit, due inediti e una cover. Due anni di silenzio, in realtà, sono quello che si percepisce dall'esterno, però per noi non sono stati ovviamente.